A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, il presidente francese Macron ha visto il suo omologo iraniano Rouhani continuando a premere per la ripresa di un dialogo tra Terran e gli Stati Uniti. La posizione francese, che punta ad una riduzione delle sanzioni a carico della Repubblica Islamica in cambio di una sua disponibilità a riaprire il confronto politico, registra la gelida reazione di Israele, attore di assoluto rilievo sullo scacchiere, e col suo ministro dell'interno si dice deluso dalla posizione espressa dal presidente Macron, perché mentre lui si è attivato per garantire miliardi di dollari all'Iran, il regime iraniano pianificava un attacco contro Israele con i droni. Ancora una volta Israele mostra di fidarsi più di Washington che di Bruxelles, un dato che sotto il governo di Netanyahu è diventato scontato. Noi sosteniamo l'amministrazione statunitense e la politica del presidente Trump della massima pressione economica e delle sanzioni per fare tornare Teheran ai negoziati e magari far cambiare il regime al potere o modificare i termini dell'ultimo accordo. Intanto, in un'intervista alla Fox, Rouhani torna a definire gli USA il maggiore sponsor mondiale del terrorismo nella nostra regione e ovunque nel mondo.